Lavoro interinale. Lavoro interinale è... Sì, sono quelle agenzie che... Cos'è il lavoro interinale? La cassata più grosso che abbia fatto i nostri governi. È il lavoro interinale e praticamente i giovani sono portati a fare questi tipi di lavori. È che uno viene pagato esclusivamente per il proprio lavoro. Quello è il lavoro a termine, diciamo. Momentaneo può essere licenziato. Lavoro temporaneo. Affitto, inaffitto, diciamo. Uno che vuole andare a lavorare possa attraverso loro. È un lavoro temporaneo, cioè è un lavoro che purtroppo una persona si deve adattare nella speranza che avvenga qualcosa di positivo dopo. Più stabile. Più stabile, esattamente.